Musica Benvenuti a una nuova puntata di Fantasy Artigianali è con noi in studio ancora Rossana Fresenca che ci presenterà i suoi libri sensoriali Benvenuta Grazie Parlaci un poco di questi libri sensoriali Allora l'altra volta abbiamo spiegato a grossi linee come vengono realizzati i libri invece questa volta ho portato dei lavori già terminati questo l'ho fatto per mio nipote Andrea che è stato espressamente richiesto da mia sorella allora qua in questa taschina ci sono tutte le letterine dei nomi essendo un bambino piccolo ho dovuto associare i colori alle lettere in modo che lui potesse comporre da solo il suo nome quindi qua le varie letterine ce ne manca una ecco qua una volta che ha completato il nome va a aprire il suo libro e iniziamo allora questi sono sia libri sensoriali ma anche libri interattivi in quanto i bambini possono giocare imparare direttamente mentre sfogliano le pagine qua abbiamo un puzzle siccome è il suo personaggio preferito ho fatto un piccolo pupazzetto per lui qua le gambette la vestina la testa le braccine e le orecchie questo ad esempio è un pupazzo che lui monta può montare poi una volta che ha terminato lo ripiega e lo rimette nella taschina qua invece impariamo a usare i bottoni quindi ho fatto un vaso dal quale si staccano i fiori e poi può montarli sullo stelo quindi ogni fiorellino il bambino può scambiarli fra loro qua invece ci sono rappresentate delle scarpette per imparare a fare i fiocchi i nodini a nodarsi le scarpe quindi facilmente con i il materiale utilizzato è il filtro? filtro tutto filtro filtro, bottoni, pezzi di nastrini qua c'è l'abaco ovviamente il bambino imparerà a contare usando le palline normalissime corallini qua abbiamo la pesca con una piccola canna all'interno dei pescetti ci sono delle calamite e il bambino poi li mette nel suo acquario andiamo avanti ci sono gli alberi quindi il bambino potrà raccogliere la frutta e metterci su altra frutta tipo togliamo le miele mettiamo le pede e le mettiamo nel cestino qua invece impariamo a raccogliere ci sono delle carote le prendiamo e le mettiamo dentro al cestino andando avanti troviamo aiutiamo la mamma in casa qua c'è la biancheria il bambino potrà fare la lavatrice con la mamma dopo aver aspettato il termine del lavaggio potrà stendere la biancheria alle cordine e fissarle con delle mollettine quindi questo è proprio lo blu in effetti fatto sempre con materiali qui stende i panni qui stende i panni ci sono le mollettine e potrà stendere i suoi panni qua è facilissimo l'orologio in base a come sposti le langette e l'orario qua ci sono gli attrezzi da lavoro una pinza un martelletto e quindi chiodini andando avanti qua c'è il semaforo cioè imparare la viabilità abbiamo la macchinina che va avanti e indietro quindi col verde la macchinina andrà avanti e indietro con l'arangione dovrà rallentare e con il rosso dovrà fermarsi qua invece ci sono le formine a ogni forma corrisponde il suo relativo eccola qua noi siamo un po' più pratiche rispetto ai bambini si spera e qua c'è l'abbinamento dei colori in questo pacco si apre e svolazzano via dei palloncini e ogni palloncino andrà posizionato sul colore dell'arcobaleno che corrisponde infine la fine perché il libro è finito qua questo diciamo è più maschile bellissimo questo libro perché in effetti è un riassunto di educazione civica educazione domestica esatto perché impara come aprire la porta chiudere l'oblò poi stendere i panni e poi vabbè ci sono anche i classici giochini che si trovano comunque anche negli asili delle formine dei colori e queste cose qua questo è veramente bello va bene passiamo a quest'altro tipo di libro questo è sempre più o meno simile però è fatto con argomenti un po' più femminili il fiorellino qua vediamo che è dalla campanella adatto sempre a bambini più o meno qua abbiamo un cordino che tira fuori la pina dal fiore e un altro cordino che la rimette dentro poi qua si impara con questo fiorellino e delle ciappette a bottonare le ciappette aperto il libro abbiamo i cinque sensi in questo sacchettino ho messo sotto i vari pezzettini abbiamo per la musica c'è per l'udito il campanellino che simboleggia la musica con la nota il gusto con le caramelle e la pizza la vista con la televisione e degli occhialini ci manco il fiorellino sul quale ho messo dell'olio essenziale che profuma anche fa un altro e poi il tatto con un materiale morbido e la carta vetrata per indicare il ruvido qua abbiamo sempre l'abbinamento di colori colore e forme più o meno in modo che il bambino tolga dal e rimetta sui colori giusti a suo posto ogni cosa a suo posto qua apriamo e c'è la notte e il giorno la differenza con i vari elementi il fiorellino l'uccellino e il sole qua invece abbiamo la parte notturna con la luna un gufetto e il gatto nero poi abbiamo ancora le quattro stagioni sempre nelle taschine io consiglio di farli mettere tutti fuori e poi il bambino ovviamente deve scegliere dove abbinarli perché se no è un po' facilitata come cosa tipo la nuvoletta il quazzo di neve il funghetto per l'autunno i cestini la frutta per l'estate la pina i fiorellini per la primavera e il sole quindi qua abbiamo rappresentato le stagioni i vari elementi delle quattro stagioni poi andando a dieci abbiamo un piccolo puzzle ricomponiamo una farfalla mettiamo sempre con i bottoni delle asole così da poterli fissare facilmente ecco andiamo così ogni pezzettino poi ovviamente sono interscambiabili ogni bambino a sua fantasia potrà inserirli come me lo crede poi qua abbiamo invece una bambolina e dal comodino prendiamo il vestitino e la vestiamo è una camiretta praticamente qua invece infatti impariamo sempre a fare il laccio il nodo alle scarpe che è una delle cose che ai bambini viene più difficile qua in questo caso abbiamo fatto non solo ai bambini viene difficile a quanto pare ecco abbiamo realizzato visto che per una femminuccia delle scarpe da ballo e qua invece abbiamo fatto il volto di una bambola con dei capelli per imparare a fare le trecce qua ci sono i leghini puoi fare la coda o fare la treccia e poi va bene così e anche questo è finito bellissimo anche questo molto più femminile direi infatti uno è un po' più maschile e l'altro è praticamente più femminile ovviamente le pagine si possono interstambiare perché sono più o meno della stessa misura si possono aggiungere degli elementi piuttosto che un altro si possono personalizzare e quindi magari se una mamma preferisce un argomento si può lavorare più su quello si possono inserire i giorni della settimana i mesi dell'anno con i relativi si può fare tutto qualsiasi cosa si voglia realizzare ringraziamo Rossana per essere venuta ancora qua in studio con noi alla prossima grazie grazie a voi grazie a tutti